Musica Ah, che bel posto, perché non ci fermiamo un po'? Volentieri, ma io ho poco tempo. Dunque, quando il frate torna da Parigi, loro si incontrano sempre su nel coro, sa dove c'è l'organo. Le due ragazze, il frate e la contessa, che si mette a suonare l'organo. Ma non aveva detto che aveva una gamba di legno? Sì, sì, lo so, ma quello era un organo elettrico. Poi, stacca la sua. Poi, stacca la sua. E poi che succede? Ah, beh, dopo averla frustata a sangue, se la porta in sagrestia. Oh, ma questo è anatomicamente impossibile. Ma io non lo so, comunque lui lo fa due volte. Il frate? Sì, con il trombone. Rimediato niente? Sì, due costole rotte e una dozzina di lividi. Sì, bene.